Salve ragazzi, in questo 2024 sono successe tantissime cose, Konami ha fatto uscire un trailer di una nuova casa di animazione firmata Konami, di uscire un nuovo anime, hanno aggiunto la possibilità di usare due evoluzioni su Clash Royale e questo ha powercrippato il gioco e io ho deciso di tornare a giocare seriamente a Yu-Gi-Oh! Buonasera Sinceramente qualità prezzo mi garbava ecco, semplicemente questo Ora, cosa c'è da dire? Perché non hai scelto Fire King con eccetera eccetera? Non l'ho scelto perché uno costa tantissimo e non ho a disposizione questi cash in primo luogo, in secondo luogo lo giocano già tutti e a me non piace mai giocare il mazzo che giocano tutti L'altra possibilità che avevo pensato per questo meta era quella di prendere cash tira ma non diciamo che l'ho scartata perché non mi piace troppo il playstyle del mazzo Comunque, Labyrinth, mazzo che mi intriga tantissimo, mi piace ma sono, non dico una capra a giocarlo perché comunque ho testato varie cose e bla 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 Però testarlo online e testarlo real sono due cose completamente diverse Quindi cosa facciamo oggi? Vi porto la mia prima lista Labyrinth che è semplicemente una lista embrionale che sto giocando ultimamente ma che sicuramente modificherò tramite anche i vostri consigli Quindi giocatori di Labyrinth pronti che vi sto per far vedere la lista più brutta che voi abbiate mai visto No a parte gli scherzi è una lista credo abbastanza standard nella realtà dei fatti ma voglio migliorarla, voglio provare diversi pacchettini E' che ovviamente non li ho neanche ancora, ah si vedrete delle proxy perché letteralmente il mazzo mi sono convinto di comprarlo venerdì e mi è arrivato ieri ma non mi è arrivato neanche ancora tutto perché le rollback appunto non mi sono arrivate Però al mazzo comunque qualcosina l'avevo già testato online quindi bene o male la lista che ho provato era abbastanza Questa lista qui comunque è una lista che funziona però che ha grossi margini di miglioramento e infatti fatemi sapere qui sotto Tre copie di Arianna, starter secondo me più forte, su questo non bisogna andare a discutere con monocopia di Ariane Penso che questi siano i dati molto standard per quanto riguarda i livelli 4 Questa ti cerca il mazzo, questa ti porta a questa che ti cerca il mazzo e poi fare Dweller Ma perché non fai prima questa e poi questa? Perché questa richiede di mandare una trappola o settata o da mano al cimitero e non sempre una cosa forte Nella realtà dei fatti se parti con il rollback può essere carina però ecco insomma questo rateo è comunque molto buono Doppia lady grossa quella che setta le cose e monolady quella che va a spaccare da mano Non è un brixa in mano ma amen e niente ragazzi ratio molto molto standard anche qui Ho voluto giocare due copie di Arias e non tre, non una perché lo trovo semplicemente fortissimo Devo dirvi la verità mi piace molto di più Arias rispetto a Cooklock infatti poi vedrete Sto prendendo in considerazione di giocare anche il terzo Sinceramente è che ho paura di bricarci troppo perché se parti con due di questi letteralmente sono carte morte Ok che puoi andare comunque a scartarlo però non lo so non lo so per ora mi sto trovando bene effettivamente a due Anzi questa qua è una carta che letteralmente vuoi quasi vedere sempre in mano Quindi secondo me non è niente ma niente male da giocare comunque in tre copie ci sto pensando Questo per il reparto standard dei mostri che hanno i piedi Passiamo alle stoviglie Tre stufe Tre candelabri Candelabri Tre candelieri E mono Orologio Perché gioco mono orologio? Perché a me orologio sinceramente ragazzi non piace troppo Sì è una cosa brutta Ma è fortissimo se hai pezzo eccetera eccetera Ma effettivamente te lo puoi cercare Te lo puoi cercare e già sono a 42 carte Mi piace molto di più arias rispetto all'orologio E quindi gioco mono lui e doppio arias Sì lo so potrebbe essere una stronzata però mi son trovato bene così sinceramente E non sto Cioè adesso non vorrei dire una cialtroneria ma Il terzo arias al posto dell'orologio Per come piace giocare a me è il mazzo Che forse non è la maniera giusta ma Intriga Ovviamente Le tre Big Con Quelle normali Questa sempre a due Perché comunque si può risettare eccetera eccetera Big webcam Carta enorme Tra l'altro Questa è un rate molto molto standard sinceramente Poi ho giocato anche Le due magie Di Di archetipo Cioè ce ne sono altre ma le due magie più forti di archetipo Labrinto labrinto Aveva giocata perché può essere ogni tanto una soluzione Ti fa spaccare una carta in più E Non è male Effettivamente ti reborna roba Preparazione È una carta che secondo me non ho visto in tutte le liste che ho visto giocare Ma secondo me è super sottovalutata Perché va a rimischiare due magie o trappole labrinto che sono bandite nel cimitero Quindi se abbiamo anche la possibilità di riciclarci eventualmente i benvenuti o i gran benvenuti E attenzione perché non dice che devono avere nomi diversi Quindi poi se parti un po' storto comunque puoi fare comunque roba E ti permette di andarti a settare due trappole normali da mazzo Con nomi diversi È forte Non è Cioè È un po' situazionale Però questa grind Secondo me è veramente Veramente enorme E in determinati mani Anche se parti primo Ti può dare Una grande mano Perché puoi andare a Metti che partite Un po' storti Con Delle cose un po' strane Questa vi può Uno sbricare la mano E due vi può settare trappole normali Che decidete voi Da mazzo E contro certi matchup Sono molto molto forti Poi per la consistenza Ho giocato tre extrava Sinceramente non ero convintissimo Di giocare l'extravagance In questa versione del mazzo Ma ti danno un draw power Troppo troppo forte Paradossalmente potrei anche giocarne due Però mi piace vedere sempre L'extrava Lati negativi Devi avere l'extra Tutti in per due Io non ce l'ho Tutti in per due Quindi mi arrangio Ovvio Se poi devo andare a fare Un regionale Un evento grosso Mi faccio prestare le carte di extra Fino ad averle Quelle più importanti Forse a tre copie Però comunque Per la versione che ho in mente Dovrei essere abbastanza a posto Con l'extra deck Ecco Comunque extrava Secondo me è carta forte Perché ti fa vedere Appunto Le carte che vuoi Peschi due Sempre forte E poi Colled Perché Shifter Ci dà fastidio Ash Soprattutto e bel Ci dà un fastidio Quindi Colled Io la ho una carta Che sinceramente La giocherei La vedi in mano Non sei mai triste Ecco Passiamo con Le carte di archetipo Più forte Che hanno stampato Ossia le rollback Che vedete Proxate Perché non mi sono Ne ancora Arrivate Ma avevo voglia Di farvi uscire il video Anche perché poi Mi arriverà Il goblin rider Mi arriveranno Un paro di robe Quindi Vorrò fare Dei video Anche su quello E questo Era lo spot Ideale Secondo me Per Anche farvi uscire Il video Di labyrinth Quindi sappiate Che questa qua È una rollback Ovviamente Tre Anche se non è così Ovvio Perché a me Piacerebbe Anche giocarle A due Potrebbe essere Una bestia Per qualcuno Ma sia Due Non è Così brutta Comunque questa Ti permette Di copiare Qualsiasi trappola È una carta Fortissima Puoi fare Due big welcome In un turno Se prendi interruzioni È fortissima Ti fa giocare Molto molto forte Inoltre Ti fa copiare Anche trappole generiche Non per forza Big welcome E contro determinati Match up Sparare Due volte Una determinata trappola Può essere veramente Veramente forte Trappole generiche Gioco il Daruma Cannon L'ice dragon prison E la capra nera Ride L'ho provata Solamente mono La capra nera Se devo essere sincero A me Non è piaciuto tanto Ice dragon prison Quindi Nel caso Giocherei Due La capra nera ride E E niente Però Deve ancora Arrivarmi Non ce l'ho Ho provato Ice dragon prison Per quanto riguarda Il canone Daruma Non è male Devo dire la verità Giocherei Più quello che fa Da shift Per un turno Per il match up Di fire king Che però Non ho ancora In teoria Devo vedere Tra la palta Perché il ragazzo Che me l'ha venduta Non Non l'aveva E quindi La recupererei Se dovessi Appunto Giocare una versione Al primo Torneo Tra molti Che farò Giocherei Sicuramente Due capre nere Con Uno di quelli Che fa da shifter Per un turno All'avversario Giocherei Daruma Di side Sinceramente Comunque Non mi sono trovato Comunque male Con questo latio qua Questa carta qui È fortissima Ti aggiusta Un sacco Di match up Rescue ace Hai un match up 100-0 Se riesci a vedere Questa Ed è per questa Che voglio giocarla Anche in due coppie Comunque Tanti giocano Fire King Ma non Dormite sopra Rescue ace Perché comunque Tanta gente Lo gioca Perché costa meno Rispetto a Fire King E comunque È un mazzo Che rende molto Molto bene Quindi sì Molto ma molto Forte E poi Avevo Nove flex In realtà Erano meno Ma ho deciso Di metterne Comunque nove Per le HT Che secondo me Sono molto ma molto Forti in questo mazzo Vabbè L'HT più forte È per Ma perché È una trappola Normale E triggerà La Lady In turnoppo Eccetera eccetera Quindi molto forte Ho giocato Tra Nibiru Perché secondo me Dentro l'Avri Nibiru Sono enormi Veramente Veramente Giganteschi Ti vanno A fare Puliziare Il campo Dell'avversario E tu puoi partire Lo puoi fare Senza troppi problemi Anche andando secondo Cioè Avendo già fatto Magari una mezza Buona nel tuo campo Perché comunque Poi Dà molto più fastidio Alloppo Ai combo E poi gioco Tra i Droll Non gioco Ash Perché Ash Prende tantissimo valore Contro Fire King E Fire King È il nostro Matchup peggiore E Ash Non è un Entrap Così impattante Cioè si fa male Ma non è così impattante Come Droll e Nibiru E voglio evitare Linea delle HT Che ho scelto Per il mazzo Gioco Tre copie Di Scandalista Perché ne gioco tre Perché La Voglio sempre avere Nell'extra È quella che voglio avere Più di tutte Nell'extra Anche più di Chaos Angel È fortissima E spesso Me ne vanno sempre due Però Anche se te ne rimane una Comunque Va bene Se te ne rimangono due Molto Molto meglio Questa la giocherei sempre In per tre Paradossalmente Gioco Monodark Perché non ho il secondo Ma giocherei il secondo E Molto forte Molto forte Perché ti fa fare SP Anche SP Se avessi la seconda La giocherei Ma Giochiamo Unicorn Che Non è male Anzi Contro magari qualche Mirfjade Ci può stare Gioco poi La Goddess Anche questa Uno per Anche se ne ho più copie Ma perché Mi piace avere Altra roba di extra Sinceramente Non vedo Tanti immuni Nel Nel formato A parte pure lì Che però L'ho visto più giocato Con SP Quindi boh Non saprei Questo per il quarto Riguarda i link Lixir Gioco Dweller Perché è forte Gioco due Dingirsu A me Dingirsu In questo mazzo qua Piace Non dico di giocarne Per forza due Però Se mi rimane Almeno uno Nell'extra deck Sono contento Perché ti permette Di andare a togliere Roba intergettabile Indistruttibile Perché manda Su evocazione Ed è forte Budking Perché a me piace Questa carta È demone Non dormiteci sopra Il fatto che è demone Demone oscurità Quindi anche se siete Loccati potete Tirarlo fuori Dall'extra deck Barna Quindi anche Eventualmente Quando vai a grind Sta per scadere il tempo Questo può fare Male Guarda l'extra deck Che manda giù Roba fastidiosa Zeus SP Roba del genere E in più È comunque Un 3000 Che può picchiare Non male Per fatto Con le due ledi Ecco Poi gioco Zeus E gioco Typhoon Perché gioco Zeus Gioco Zeus Spese In primi Si seguono Typhoon Che sarebbe Molto importante Ma me lo farò prestare Eventualmente Se andrò a qualche torneo Un po' più grosso Perché voglio di comprare il secondo Non ce l'ho Anche perché Costa comunque 30 euro E Zeus Si È forte Perché è sempre Zeus Non è La carta più forte Del mondo Dentro Un control Però mi è capitato Di calarlo Più spesso Di quanto pensassi E poi abbiamo Due Chaos Angel Ovviamente Uno proxato Perché O lo trovo A prezzo Bassissimo Anche se Non credo Visto che L'hanno annunciato Ultimate Sull'OP Il prossimo Sul prossimo TS Ma Non credo Scenderà Perché Questo Secondo me Significa Niente di stampa Sulle 25esimo Però Perché hanno già fatto Ultimate È vero che è un'ultimate Diversa Però boh Non lo so Questo era Il mio extra Ovviamente L'extra Ragazzi Lo punterò Punterò a cambiarlo Perché Credo giocherò La versione E spoiler Ho già comprato E sono in arrivo Anche gli unchained Anche se Porca troia Quello blu Quanto cazzo Costa Pazzesco E quindi Sì Penso giocherò L'extra Unchained Quindi un po' Più di link Perché ho visto che Ti permette di fare Qualche giocata in più Che non è male E toglierò Qualche Xyz Semplicemente Per la side Ve la faccio vedere Velocemente Perché Comunque È importante Tra i evil Perché è una Trappola E perché È forte Go second Deflettore Virus Heavy barrier Che diventeranno Poi anche Un eventualmente Un daruma cannon Secondo me Quando prenderò La seconda capra E quello che fa Da shifter Non male Cioè Servono tutti Per matchup Diversi Bandit Despia Le fa malissimo Questo Qualsiasi mazzo Che gioca le magie E questo Fa male A runic Comunque I mazzi Che sono presenti Nel formato Quindi Perché non giocarlo 3 hash Perché Comunque Branded È un mazzo Perché Comunque Tutti gli altri Matchup Che non sono Fire King Questa qua Fa molto male E quindi Sì La metto Di side Perché so Che contro alcuni Matchup È forte Sicuramente Magari Più forte Di Droll O Nibiru In base al mazzo Contro cui vado a giocare Però allo stesso tempo La tolgo Contro Fire King Perché È troppo È troppo Forte Il fatto Che possa Rebornarla E farci Extendere A gratis Ecco 3 cicloni 3 cicloni Perché Secondo me Sono il Backdoor removal Più forte Sì è vero Ho messo Anche i nivelli Ma Girano Tantissime Terreno Fastidiose E robe varie Quindi preferisco Avere Tra i nivelli 3 ciclon Per determinati Matchup Piuttosto Che avere Delle ht Che magari Non fanno Niente E E poi Ho giocato Trebel Ho messo Dentro Trebel Perché non sapevo Cos'altro Mettere L'ho fatto Semplicemente Per coprirmi Un po' Di più Il matchup Con Despia Perché non Sempre Puoi vedere Ash E voglio evitare La puppet Anche se la puppet Non è Che ci faccia Troppo male Perché siamo Un control È forte È più forte Contro fire king Rispetto A Dash Perché appunto Non è fuoco Non è male Bene in questo formato Devo dire la verità Che comunque La side Sto pensando Anche di cambiarla Per dei motivi Il primo motivo È che Tra l'altro Sta scivolando Tutto qua Pazzesco Il primo motivo È che vorrei giocare Un aspetto Il judgment Nuovo O il judgment Vecchio Per avere Una protezione In più Da eventuali Livelli Avversarie Che bisogna Sempre tenerle In considerazione Cosa Numero due Vorrei giocare Gli sciaffolini Degli Degli shizu Per coprire Il matchup Anche tipo Contro fire king Perché quello Andando primo Può essere sicuramente Un'ottima giocata E niente Questo ragazzi Era il mazzo Ovviamente Come ho già detto Ancora Un mazzo Che sto giocando In primis Da poco Quindi mi mancano Ancora Delle buone Strategie Ancora Ben delineate Cioè il mazzo L'ho giochicchiato Non ti dico Che Non so Se tu mi dai Una mano di prova In mano Farti la mano Di prova Ma devo avere E aumentare la mia esperienza In determinate situazioni Su come gestire Determinate cose Eccetera Eccetera E soprattutto Per limare La decklist Al meglio Questo ragazzi Io vi saluto Io vi saluto Invito a iscrivervi al canale Lasciate un mi piace Vi lascio qui sotto In descrizione Il mio account Telegram E tutti i miei social Dove Se volete entrare Siete i ben accetti Vi lascio anche CarTrader Avrete 2 euro di buono Se vi iscrivete Con un nuovo account Sul mio profilo Vi aiuterete anche Leggermente il canale Vi ci vediamo Nel prossimo video Vi ricordo qui sotto Qui sotto Nei commenti Se volete Andare a Scrivermi Qualche consiglio Noi ci vediamo Nel prossimo video Ciao ciao